ciao a tutti benvenuti su truffle for dummies la cerca del tartufo per novellini oggi video involontario nel senso che ho fatto la prima uscita in solitaria con con timo rasso cioè siamo andati nel bosco sostanzialmente non gli ho chiesto non gli ho chiesto di lavorare ma si è comportato in maniera molto molto particolare di solito siamo sempre usciti insieme a tabuia tra l'altro adesso siamo in un momento un po di relax siamo tornati tutti li faccio vedere ecco qua timo rasso e tabuia ciao tim ciao tabuia vabbè vabbè eccoci non divaghiamo quindi non ho fatto le solite intro nel bosco quindi faccio intro chiusura le monterò dopo però volevo farvi vedere questo piccolo video prima uscita di timo rasso in solitaria cioè senza tabuia che gli facesse la tutor e senza l'idea di andare a fare dell'addestramento nel bosco ve lo faccio vedere non saranno più riprese ci sarà poco parlato poche spiegazioni ma almeno vedete un po come inizia a muoversi timo rasso andiamo tim vieni bravo 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 tim viamo che dice che c'è qui timo che c'è ho trovato una cacciola bravo bravo tim queste non ci interessano tanto però da qualche parte bisogna pure partire bravo a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.